Sapevi che piccoli cambiamenti nelle tue abitudini quotidiane possono aumentare enormemente la tua capacità di bruciare grassi? Ecco 5 consigli chiave. 1. Assumi almeno 2-2,5 grammi di proteine per chilo di peso. Le proteine aiutano a costruire e mantenere la massa muscolare, che a sua volta aumenta la combustione dei grassi. 2. Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno, in modo da mantenere il metabolismo attivo e bruciare grasso in modo efficiente. 3. Consuma alimenti che stimolano il metabolismo e la combustione dei grassi, come la carne rossa allevata al pascolo. 4. Non ridurre drasticamente l'apporto di nutrienti, cosa che può rallentare il tuo metabolismo e rendere più difficile la perdita di peso. 5. Dormi a sufficienza, in modo da ottimizzare la produzione degli ormoni e favorire la combustione dei grassi. Puoi trovare queste strategie assieme a molte altre all'interno di definizione d'aspartano. Il nostro protocollo specifico per la definizione muscolare, che include schede di allenamento, programmi alimentari, consigli su integrazione e stile di vita per aiutarti a bruciare i grassi, mantenere e anche aumentare la tua massa muscolare e ottimizzare i livelli dei tuoi ormoni. Scrivi definizione d'aspartano nei commenti per scoprire come averlo.